ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video oggi parliamo di black friday la settimana è il black friday ed è iniziata subito con fanatec che mi manda le mail dice ciao fabrizio tu eri nostro cliente guarda un po che offerte che ti diamo allora pensate che con 799,800 euro vi portate con il 47 per cento di sconto una base di d2 d'accordo sempre fanatec ovviamente con un incredibile sconto del 47 per cento e come vedete c'è anche il quick release 2 che ovviamente ha già fatto parlare molto bene di sé quindi ragazzi questa è un'occasione che comunque è quasi il 50 per cento a me da prezzo stanno facendo su sti dd2 anche se anche se ho un sentore che sta per arrivare qualcosa da fanatec vabbè e e dopo di che ci sono queste altre due offertine molto interessanti stiamo parlando del podium da 20 newton metri il dd1 con la corona bmw che è meravigliosa ragazzi con l'adattatore del quick release 2 quindi anche questa è una bellissima offerta e anche quella porsche la corona molto bella sempre per con il dd1 ragazzi 999 euro e 95 un quasi ready to race mancherebbe solo la pedaliera c'è anche i racing ragazzi che propone per chi rinnovo chi riattiva il proprio account 20 il 25 per cento di sconto e per chi si iscrive anche qui 50 per cento di sconto per i nuovi iscritti ragazzi a tal proposito se volete qua sotto c'è il mio il mio link referral che se l'ho utilizzata voi non cambia nulla e a me mi riconoscono 10 euro 10 dollari di credito per chi volesse scoprire questo ai racing ragazzi quindi io cercherò di stare sempre attentissimo a quelle che sono le offerte black friday e cercherò di segnalarvi con questi video flash però mi sembrava interessante condividerla condividerla con voi soprattutto l'offerta della fanatec perché una così diciamo bella tosta con i dd con i dd1 e dd2 soprattutto il dd2 ragazzi 800 euro devo dire la verità che è tanta roba va bene ragazzi quindi se queste mega due offerte black friday vi sono piaciute come al solito pollice in su non esitate a lasciare un commento magari segnalatevi guarda stanno facendo delle offertoni stanno facendo delle offertoni vai fai un video fai uno short fai quello che è iscrivetevi al canale noi ci vediamo questa sera alle 21 e 15 per la terza gara del campionato btcc da fabrice è tutto un abbraccio ciao